Anche Luca Comics and Games, dopo l'edizione Luca Cengis 2020, dominata dai collegamenti in remoto a causa del Covid, torna a rivedere le stelle. E non poteva essere altrimenti nell'anno che celebra la morte di Dante Alighieri. Una metafora che se da un lato rimanda alla Divina Commedia fa anche pensare al fatto che la città tornerà ad essere popolata dai colori della manifestazione. La locandina dell'evento quindi è stata dedicata a Dante in una veste molto pop. Il gioco che abbiamo fatto insieme a tutti i ragazzi di Luca è stato proprio quello di creare una sorta di fermo immagine widescreen cinematografico che così potesse invitare il pubblico e non solo a tornare a Luca e così ad abbracciare virtualmente tutti coloro che in un modo o nell'altro potranno anche assistere poi alle varie presentazioni, ai vari live che si terranno anche in video quest'anno. L'edizione 2021 però si arricchirà anche di nuove iniziative, a cominciare dalla musica che accompagnerà la quattro giorni dedicata al fumetto e games. Saranno molti infatti gli incontri tra i vari interpreti del rock italiano e gli esponenti del mondo del fumetto e della cultura Luca Comics & Games. Certo pensare che avremmo avuto nella stessa quattro giorni il giovanissimo Shade, i famosi per la loro passione per il mondo del gaming, la Kuna Coil, Caparezza e Pau con una straordinaria mostra, ecco questo è veramente un sogno. Ma Dante non sarà l'unico riferimento letterario della manifestazione che a questo punto sembra voler sviluppare una propria dignità nella cultura di fascia alta. Non mancheranno le situazioni ispirate ad Ariosto e alla cultura classica.